Sì, di noi, è bene una nuvola, sì, di noi, l'amore è una favola, sì, di noi, se tu vuoi orare. Enzo Ghinazzi in arte pupo sceglie la sua Arezzo per festeggiare i 40 anni di Su di Noi e per presentare in anteprima, proprio nella nostra città, la sua nuova canzone, Avere vent'anni. E' il brano che più di tutti identifica l'eterno ragazzo di Ponticino, da cui Enzo Ghinazzi è partito per poi raggiungere i palchi di Mezzomondo, una vita piena, fatta di sconfitte e vittorie senza mai nascondere nulla ai suoi fan che oggi lo acclamano all'Anfiteatro di Arezzo. Un concerto, quello di pupo sold out, con distanziamenti e misure di sicurezza, voluto fortemente dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune nel cartellone Anfiteatro Sotto le Stelle. Il pupo lo dedica alle sue donne, sempre vicine, non il momento della sua vita, anche la sua mamma era presente al concerto. Insomma, sì, a mia mamma, un momento particolare poi della sua vita, sono 87 anni, a lei, a mia moglie, alla mia compagna, alle mie tre figlie, a mia sorella, tutte le donne della mia vita che hanno fatto quadrato anche quando stima e credibilità stavano, in qualche modo, segnando il passo. E poi a tutti quelli che mi vogliono bene e che vogliono condividere con me questa serata, peccato aver avuto solo 700 posti a disposizione, ma il periodo è quello che è. Durante le due ore di spettacolo la rivelazione piccante sul brano Gelato al cioccolato, scritto da Cristiano Malgioglio. Mi disse da dove aveva tratto ispirazione, per il Gelato al cioccolato. Io da quel momento non sono stato più lo stesso uomo. Non la posso più cantare con quella naturalezza, con quella quasi ingenuità. E poi il nuovo brano, avere vent'anni, che per Pupo sembra essere una realtà. Io mi rendo conto che non ce la faccio più a fare le cose che facevo a vent'anni, però mi domando perché non ce la faccio più. Ecco, ed è la domanda che ci facciamo in tanti. È una canzone molto allegra, ma nello stesso tempo, perché è ritmica, estiva, ma nello stesso tempo anche una canzone un po' drammatica, perché ti mette di fronte ad una realtà impossibile da controvertire. Vi abbraceremo tutti quanti. Uno a uno. Non ci può fare, ma presto non abbiamo da abbracciarci. Ciao!